Ma io per parlare, ma me, posso togliermi la mascherina mentre parlo? Ma qua si faceva una foto, guardi qua, era solo per farti la foto. Eh, posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? Eh no. No? Eh, se non sta un metro e mezzo, no. Lo avete notato anche voi? Certo, talmente. Ha di nuovo quell'espressione ebete. Potrei strangolarlo quando fa così. Mi fate vedere le foto di Piazza del Popolo che ci sono state sabato? Mi fa vedere la foto di Piazza del Popolo sabato? Se trovate anche o Zingaretti o Conte che si trovate... No, ma non c'è di sicuro, c'è qualcosa che non va. Non si è mai comportata così prima. Secondo lei, l'abbassarsi la mascherina mentre si parla con una signora è lo stesso problema che non mantenere, mi limito nel mio linguaggio, le promesse fatte a milioni di italiani negli ultimi mesi. È stato un bel disastro. Spirare Non ci sono i ragazzi Ma non ci sono i ragazzi Non ci sono i ragazzi Non ci sono i ragazzi Gli